Zagabria contro Budapest, Budapest contro Strasburgo, l'Europa versa nella confusione più profonda con migliaia di persone che dalla Turchia ai confini con l'Ungheria e la Croazia premono per entrare. Unica via d'accesso, un valico al confine fra la Serbia e la Croazia. Da qui direzione obbligata Austria, passando attraverso la Slovenia per poi puntare alla Germania e intanto l'Ungheria ha completato la costruzione del muro che la separa dalla Croazia. 41 chilometri di filo spinato per tenere lontano i profughi. Una decisione questa che ha innescato polemiche e accuse reciproche fra i governi di Zagabria e Budapest. L'Ungheria punta il dito contro Zagabria a ria di non difendere i confini dell'Unione e ne chiede l'esclusione da Schengen. Durissima la risposta del premier croato Zoran Milanovic. Via di chiudere il confine è folle perché può essere realizzata solo con un uso brutale della forza, sparando contro la gente. Intanto questa notte 1500 migranti hanno attraversato il confine fra l'Ungheria e l'Austria. Nella città di Nickeldorf, dopo aver ricevuto l'assistenza da parte della Croce Rossa, hanno potuto prendere gli autobus direzione Vienna. Un flusso migratorio che tuttavia nasce ben più lontano. Qui siamo in Turchia, nel campo di Edirne, vicino al valico di Pazar Kule, dove in centinaia si sono accampati pronti a passare in Grecia. Aspettano che le autorità permettano loro di proseguire e si interrogano su quanto sta accadendo. Cosa sta facendo l'Europa? Ieri una bambina è morta in mare. L'Europa parla, dice che troverà una soluzione, ma non abbiamo visto nulla. Abbiamo dormito in strada, siamo bloccati dalla polizia, vogliamo solo attraversare la Grecia in pace. Lasciateci passare, non vogliamo fare male a nessuno. Passano dalla via di terra perché il viaggio via mare è troppo pericoloso. In troppi hanno perso la vita. Ancora ieri la guardia costiera greca ha salvato dal naufragio 13 persone, anche se non ha potuto fare nulla per una bambina di 5 anni, annegata. In queste ore l'allerta è alta anche su quella che viene considerata la via di mare, ossia il canale di Sicilia. Da questa mattina all'alba sono stati soccorsi 4.500 migranti, mentre a bordo di barconi e gommoni erano diretti verso le coste italiane.